Dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con un grande mister, Luciano Tessari che ci ha fatto vincere lo scudetto nell'83 insieme al maestro Nitz Lidon. Grazie, a proposito, a tutti i tifosi, a tutti i tifosi, perché tutti ci hanno voluto bene e ci hanno sempre sopportato e aiutato in tutte le maniere. A nome del mister Nidon, che mi ha detto qualche giorno prima, Luciano, fortunato sei che stai a Roma e avrai il piacere di vedere sempre quei grandi tifosi che ci hanno aiutato e ci hanno sostenuto in tutti i momenti. Ringraziali a nome mio, ringraziali per tutto quello che ci hanno dato e aiutato a fare la grande Roma. Grazie, grazie a tutti. Ecco, io la ringrazio tantissimo per queste belle parole. Vogliamo dare un consiglio alla Roma attuale. Che differenza c'era fra quella dell'83 come forza e questa di adesso? Ma devono diventare amici. Noi non abbiamo fatto una squadra di calcio, abbiamo fatto una squadra di amici. Quando la squadra diventa amica di tutti, allora si vince qualcosa, altrimenti non si arriva mai al traguardo. Ognuno ne fa la forza, diciamo. Sì, sì, questo è molto importante perché i calciatori hanno il tallone d'Achille molto accentuato, cioè hanno tutte le paure di questo mondo. Hanno paura di non farcela, di non arrivare, di non vincere e questo invece bisogna levarglielo. Come facevamo noi? Lassandoli liberi anche di sbagliare e nessuno mai gli dicevamo che ha sbagliato. Guai a dire a un giocatore che ha sbagliato, lo sa da solo, capisci? E qui anche la stampa dovrebbe prendere questo esempio che è molto importante se vogliono tenere i giocatori in equilibrio. Non bisogna mai tradirli, bisogna sempre aiutarli perché i giocatori nostri che abbiamo in questo momento, noi dicevamo sempre, sono i migliori del mondo. Grazie a tutti, ai tifosi e anche alla stampa, cercate di aiutarli sempre, che hanno bisogno di aiuto sempre, in qualunque momento, anche quando vincono, non solamente quando persono. Grazie con grande affetto e con grande amore da parte del mister Lidon che mi ha raccomandato tanto, tante volte, di dire queste cose a tutti i tifosi e a tutti quelli della stampa. Grazie. Grazie Dante, mister. Cerca di parlare. Ciao a tutti. Te l'ho promesso. Sì, sì, questo io lo metto.